Grazie a tutti Sono contento perché forse abbiamo capito che avevamo dato tutto Purtroppo è successo quello che si voglia ma non è passato Adesso faccio niente, mi dispiace perché stavamo facendo una cosa straordinaria Grazie a tutti Ero convinto di poter fare gol, l'avevo spiazzato però è una partita Solo che a coraggio sbaglia Simo Ma l'avevi preparato così? L'avevi studiato così? Sì, l'avevo sempre tirato così Grazie Antonio 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 Grande Grande Questa gioia Questa gioia come si è grande Grazie Grazie Sei grande Antonio Il nome dei ragazzi Sembra che avete vinto nel cuore della gente Grazie Questo è importante Se ne dimenticherà mai queste emozioni? No mai Si è formato un grande gruppo Formato da 23 uomini ma anche da grandi uomini per quanto riguarda lo staff e tutte le persone che hanno lavorato in questo mese e mezzo e penso che da questa base bisogna ripartire per andare avanti Grazie